Pillole online in questi giorni di forzata solitudine. Fate come salga e viaggiate senza muovervi da casa. Ci spiega come Maria Francesca Alfonsi. Hashtag la bellezza ci cura. Siete mai stati a Palazzo Ferretti, ricco museo archeologico nazionale di Ancuna? Se la risposta è no, nell'attesa di andarci o di ritornarci con i piedi potrete girarlo con occhio orecchio online in Facebook. Cercatelo e divertitevi con le pillole di archeologia che scoprirete percorrendo online certo il monumentale scalone settecentesco entrando nel salone delle feste guardando per esempio la preziosa mini venere epicena fino agli abitati neolitici e poi giocate per esempio alla maniera degli antichi che so un gioco da tavolo, foate, ginnastica da camera, risolvete indovinelli sempre ovvio con l'aiuto di quelle rare memorie. Grazie mille!